Quando di qui a 50 anni i miei nipoti mi domanderanno che cosa facevo quando ero a Oxford nei remoti giorni verso il principio del nostro mostruoso secolo io mi volterò a guardare attraverso l'abisso del tempo e dirò in perfetta buona fede che non studiavo meno di 8 ore al giorno che mi interessavo moltissimo del servizio sociale e che il caffè era lo stimolante più forte che mi permettevo e loro molto giustamente diranno ma spero che sarò abbastanza lontano per non udire ecco perché mi sono proposto di scrivere le mie memorie il più presto possibile prima di avere il tempo di dimenticare avendo davanti agli occhi la verità non sarò mai capace né volontariamente né inconsciamente di mentire su me stesso per il momento mi manca il tempo di fare un completo resoconto di quel periodo decisivo della mia storia devo perciò contentarmi di descrivere soltanto un episodio di quegli anni studenteschi scelto perché curioso e allo stesso tempo caratteristico della vita oxfordiana d'anteguerra il mio amico Lycem vincitore di una borsa di studio era lo Swellford College e gli univa la nobiltà era immensamente orgoglioso della sua discendenza anglosassone e della derivazione del suo nome dalla parola Lycem in inglese arcaico cadavere all'intelligenza i suoi gusti erano eccentrici le sue abitudini deplorevoli la cerchia delle sue cognizioni immensa poiché ora è morto non dirò altro del suo carattere una sera dunque ero andato a trovarlo come di consueto nel suo alloggio a Swellford erano appena passate le nove quando salivo le scale il grande Tom stava ancora suonando in tome laude ressono bimbarn sine fraude come diceva quel motto deliziosamente scemo e quella sera il suo bimbam in un persistente basso profondo faceva uno straordinario contrasto al frenetico suono di chitarra che usciva dalla stanza di Lycem dalla furia del suo strimpellare potei arguire che era accaduto qualcosa di più catastrofico del solito poiché ringraziando il cielo era solo nei momenti di grande emozione che Lycem si metteva a suonare la sua chitarra entrai nella stanza con le mani sugli orecchi per l'amor di Dio implorai attraverso la finestra aperta Tom stava lanciando un profondo mi bemolle mentre la chitarra squittiva estericamente in re maggiore Lycem rise scaraventò la chitarra sul divano con tale violenza che lo strumento emise un gran gemito con tutte le sue corde e mi venne incontro mi dette una forte manata sulle spalle con una cordialità e quanto dolorosa il suo viso era raggiante di gioia io sono pronto a partecipare ai dolori del mio prossimo ma non alle sue gioie c'è qualcosa di stranamente fastidioso nella felicità altrui sei sudato dissi freddamente Lycem si asciugò il viso ma continuò a ghignare beh, che cos'è questa volta? domandai ti sei di nuovo fidanzato ufficialmente? Lycem scoppiò a ridere e aveva l'espressione triunfante di chi ha finalmente trovato l'occasione di liberarsi di un segreto molto meglio! esclamò qualche amorazzo più sconveniente del solito immagino sapevo che era stato a Londra e che vi aveva passato la notte col pretesto di un appuntamento urgente col dentista è un essere volgare disse Lycem con un riso nervoso che mi dimostrò come i miei sospetti fossero ben fondati beh, sentiamo quel che hai da dire sull'amabile Flossi o Effi o come si chiama dissi rassegnato ti dico che è una dea dea della ragione suppongo una dea continuò Lycem la creatura più meravigliosa che abbia mai visto e quel che è più straordinario raggiunse con malcelato orgoglio sembra che anch'io sia una qualche specie di dio dei giardini ma veniamo al fatto ti racconterò tutta la storia è andata così ieri sera ero in città come sai e sono andato a vedere quella magnifica commedia che danno al Prince Consort è una di quelle ingegnose combinazioni di melodramma e di commedia a tesi che ti dà i brividi giù per la schiena e allo stesso tempo e allo stesso tempo la virtuosa sensazione di essere stato a vedere qualcosa di serio io sono entrato piuttosto in ritardo avendo prenotato uno splendido posto nella prima fila della prima galleria entro mi faccio largo tra la prebaglia e mi accorgo che c'è una ragazza nella poltrona accanto alla mia le faccio le mie scuse per averle pestato ai piedi e poi non le vado più per tutto il primo atto nell'intervallo quando si riaccendono le luci mi volto per dare uno sguardo in giro e scopro che seduta accanto a me c'è una dea incredibilmente bella piuttosto pallida e virginale e slanciata ma allo stesso tempo con un portamento pieno di dignità non te la posso descrivere è semplicemente perfetta non c'è altro da dire perfetta ripetei ma anche le altre erano perfette sciocco esclamò Laichem le altre erano delle semplici donne questa è una dea ti dico e non mi interrompere più mentre guardo stupefatto il suo profilo lei volta la testa e mi guarda dritto in faccia sono quasi svenuto dall'emozione non avevo mai visto niente di più bello i nostri occhi si sono incontrati e che orribile espressione da romanziere osservai non posso farne meno non c'è un'altra parola i nostri occhi si sono incontrati e ci siamo immediatamente innamorati l'uno dell'altro parla solo per te l'ho letto nei suoi occhi sammi a sentire durante quel primo intervallo ci siamo guardati più volte e poi durante il secondo atto proprio per caso mi è caduto il programma che tenevo sulle ginocchia chinandomi per raccoglierlo le ho sfiorato la mano non c'era ovviamente altro da fare che prenderla capisci? e lei cosa ha fatto? nulla siamo rimasti così fino alla fine dell'atto infinitamente felici e e tranquillamente sudando palma a palma so benissimo com'è continua pure non puoi affatto saperlo tu non hai mai tenuto la mano di una dea tra le tue quando le luci si sono riaccese le ho lasciato la mano a malincuore perché non volevo che la folla profana ci vedesse e non venendomi in mente niente di meglio da dire le ho chiesto se era davvero una dea lei ha detto che era una domanda strana perché a sua volta si stava proprio chiedendo quale dio io fossi com'è strano diciamo tutti e due e poi io dico che sono sicuro che lei è una dea e lei dice che è certa che io sia un dio e poi compro dei cioccolatini e comincia il terzo atto ora trattandosi di un melodramma nel terzo atto c'è naturalmente una scena d'assassinio durante la quale tutte le luci si spengono in quel momento emozionante di completa oscurità improvvisamente lei mi dà un bacio sulla guancia non mi avevi detto che era virginale lo è assolutamente gelidamente virginale ma è fatta di ghiaccio ardente capisci è virginalmente appassionata proprio la combinazione che ti aspetti di trovare in una dea ammetto di essere rimasto un po' sorpreso quando lei mi ha baciato ma con una formidabile presenza di spirito le ho subito reso il bacio sulla bocca dopo l'assassinio le luci si sono riaccese e non è accaduto altro di notevole fino alla fine dello spettacolo allora l'ho aiutata a indossare il mantello e siamo usciti insieme come se fosse la cosa più naturale di questo mondo poi abbiamo presunto a sì e siamo andati a cena non senza qualche abbraccio durante la strada non senza qualche abbraccio sempre appassionatamente virginale sempre virginalmente appassionata procedi beh abbiamo cenato una cosa assolutamente olimpica nettare e ambrosia e furtive strette di mano lei diventava ogni momento più meravigliosa mio dio avresti dovuto vedere quegli occhi tutta l'anima sembrava bruciare nel profondo delle sue pupille come fuoco sotto il mare e la narrativa non interruppi lo stile eroico epico è molto più adatto dello stile lirico dunque come ti ho detto cenammo e poi la mia memoria non è che una specie di nebbia bruciante affrettiamoci a tirare l'inevitabile velo come si chiama leiche confessò che non lo sapeva trattandosi di una dea non gli sembrava importante sapere quale fosse il suo nome terreno e come sperava di ritrovarla lui non ci aveva pensato ma sapeva che in un modo o nell'altro sarebbe riapparsa gli dissi che era uno sciocco e gli chiesi quale dea credesse che la fosse e quale dio credesse ad essere lui ne abbiamo parlato disse in principio abbiamo pensato ad Ars e ad Afrodite ma lei non rispondeva all'idea che ho di Afrodite e io non credo di assomigliare molto ad Ars si guardò meditabondo nell'antico specchio veneziano appeso sopra il caminetto era uno sguardo compiacente perché l'Achem era piuttosto vanitoso riguardo il suo aspetto fisico che sebbene fosse repulsivo a prima vista se lo si guardava meglio aveva una certa strana e affascinante bruttezza verbuto avrebbe potuto essere un passabile Socrate ma Ares no certamente non era Ares forse sei Efesto suggerì ma la mia idea fu accolta freddamente ma era sicuro che fosse una dea non avrebbe potuto essere solo qualche specie di ninfa Europa per esempio ma Lachem respinse l'implicita insinuazione che lui fosse un toro ne volle sentir parlare di cigni o di nembi dorati era piuttosto possibile disse che lui fosse Apollo e lei Daphne reincarnata dal suo stato vegetale e sebbene io ridessi di cuore all'idea che lui fosse Febo Apollo Lachem si aggrappò a quella teoria con crescente ostinazione più ci pensava e più gli sembrava probabile che la sua ninfa con la fredda e ardente passione virginale fosse Daphne e il dubbio di non poter essere Apollo non gli passava nemmeno per la testa fu circa quindici giorni dopo in giugno verso la fine dell'anno scolastico che scoprimmo l'identità olimpica di Lachem Eravamo andati Lachem e Dio a fare una passeggiata dopo pranzo camminavamo nella pallida tranquillità del crepuscolo e seguendo il sentiero lungo il fiume fino a Gostov si fermammo alla locanda a bere un bicchiere di porto e a chiacchierare con la proprietaria una magnifica vecchia falstaff in gonnella di seta nera fummo regolarmente intrattenuti con pettegolezze e vino vecchio e dopo che Lachem ebbe cantato una canzone comica che ridusse la vecchia signora in una tremolante gelatina di risa esteriche ci rimettemmo in cammino per proseguire ancora un po' oltre il fiume prima di far ritorno nel frattempo si era fatto buio nel cielo si erano accese le stelle era quella specie di notte d'estate a cui Marnoff paragonava Elena di Troia invisibili i pivieri gettavano il loro melanconico grido il tuono lontano della cateratta portava un contributo continuo e uniforme a tutti gli altri piccoli rumori della notte Lachem ed io camminavamo in silenzio avevamo fatto circa un quarto di miglio quando a un tratto il mio compagno si fermò e si mise a guardare fisso il colle di Wittem a occidente anche io mi fermai e vidi che fissava la falza sottile della luna che stava per tramontare dietro i boschi oscuri dell'altura che cosa stai guardando chiesi ma Lachem non mi badò morbolò soltanto qualcosa tra sé poi all'improvviso gridò è lei e si slanciò al galoppo attraverso i campi in direzione della collina pensando che fosse improvvisamente impazzito lo seguì scavalcamo con gran fracasso la prima siepe poi venne il canale Lachem saltò sprofondò a metà nell'acqua e risalì faticosamente pieno di melma io feci un salto più fortunato e atterrai tra il fango e i giunchi dell'altra sponda ancora due siepi e un campo arato ancora una strada un cancello un altro campo e poi ci trovammo nel bosco di Wittem era buio pesto sotto gli alberi e Lachem fu obbligato a rallentare l'andatura io lo seguivo guidato dal rumore che faceva calpestando le frasche e dalle sue bestemmie quando si faceva male quel bosco era un vero incubo ma alla fine riuscimmo a venirne fuori e ci trovammo nella radura in cima al colle attraverso gli alberi al limite estremo della radura splendeva la luna e sembrava incredibilmente vicina poi all'improvviso sul sentiero tracciato dalla luce lunare la figura di una donna si staccò dall'ombra degli alberi e venne verso di noi Lachem le corse incontro si gettò ai suoi piedi e le abbracciò le ginocchia e la si chinò ad accarezzargli i capelli arruffati io mi voltai e me ne andai non è bello che un comune mortale assista agli amplessi degli dèi tornando mi domandavo che diavolo o meglio che dio Lachem potesse essere perché era certo la casta cinzia quella che senza ombra di dubbio mi si era zettata tra le braccia che gli fosse endimione no l'idea era troppo assurda per essere presa in considerazione ma non riuscivo a pensare a nessun altro che fosse stato amato dalla vergine luna eppure mi pareva di ricordare vagamente che c'era stato qualche dio che aveva goduto i suoi favori per tutta la strada del ritorno frugai nella mia mente cercando quel nome che sempre mi sfuggiva ma arrivato a casa consultai l'Emprier e quasi morii dall'Elisa quando scopersi la verità pensavo allo specchio veneziano alle compiacenti occhiate di Lachem e alla sua convinzione di essere Apollo e non riuscivo a smettere di ridere e quando a mezzanotte passata Lachem fece ritorno al collegio gli andai incontro sul portico lo presi pian piano per la manica e gli sussurrai all'orecchio Priabo e di nuovo mi piegai in due dalle risa grazie a tutti Grazie a tutti